Poi, se tutto andrà bene, in un mese, un mese e mezzo, riusciremo a pagare tutte le nostre rate arretate. Ozzate, parassita, ozzate! Noi fattiamo tutti i testi a mano da un giuletto qua, ma ti rendi conto? Ma dai, stag, forse la più fallita qua niente si fa più di qui. Eccalmatevi tutti! Poi, se ti sono, vedi aiutare! Vito, ho spicciato, chiudimo. Possiamo chiedere l'ospitalità, no? Finché troviamo una casa. Atele, quando stare? A casa, giustano, è bene, buon'epa. E' un morangelo così stanotte, vagnola? Siamo un'ansia, allora, ti procuro a benzina, ti ammete a qualcosa di mangiare, va bene? Qui non vorrei morire, mio paese. Preconcetta, ma queste cose te le inventi? Camina, vena, voi ci te spicci. I bumbatori, le pavaci, li mi intucuai! Au! Una verba! Mi stai sentendo oggi? Posso? Non ti amparruare con moce che va bene la nostra. Cigeta, offeso, picci il nedro. E allora offendete, va, buon samaritano. E che io non ho tenuto tenerezza per ciò e di chiui, manco per laina. Non ti permettere con me tutti così, hai capito? Non ti pensare che è stato facile per me tutti e cresciusola. Ho rinunciato a tutto! Tutta una cosa che era buona che fai di vecchio, non mi fai di proprio nascire.